Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Siamo all'episodio 9 di questa serie dedicata all'educazione finanziaria e continuiamo anche in questo episodio a parlare del sistema finanziario. Nei precedenti due episodi, il 7 e l'8, ci eravamo messi nei panni dei soggetti in avanzo finanziario, cioè quelli che danno i propri soldi al sistema finanziario e quindi investono i propri risparmi. In questo episodio invece ci mettiamo nei panni dei soggetti in disavanzo, cioè che non hanno denaro per sostenere delle spese e quindi lo chiedono in prestito al sistema finanziario. Abbiamo già detto che accendere un finanziamento, cioè indebitarsi, non è di per sé qualcosa di negativo, ma anzi è proprio la possibilità di spostare nel tempo la disponibilità di risorse, quindi anticiparla prendendo a prestito del denaro, che poi però dovrà essere restituito nel futuro, che permette all'economia di crescere. Se il debito è buono, infatti, permette di aumentare la produttività di chi lo contrae. Nel caso di un'impresa, ad esempio, essa potrà indebitarsi per comprare capannoni o macchinari e quindi aumentare la produzione e quindi i ricavi. Nel caso di una famiglia, invece, essa potrebbe indebitarsi per comprare ad esempio un'automobile con cui raggiungere un posto di lavoro più distante, ma che offre un salario migliore, oppure per permettere di studiare ai figli e quindi essi avranno in futuro una probabilità maggiore di avere un impiego con un salario più alto. L'accesso al credito, o analogamente l'accensione di un finanziamento, sono quindi un'opportunità, per cogliere la quale è però necessario soddisfare una serie di requisiti, che possiamo riassumere nel concetto di reputazione. Allo stesso modo in cui, se investiamo i nostri risparmi, vogliamo avere in qualche modo delle garanzie che essi ci torneranno indietro e siamo disposti ad accettare un rischio, a patto però di ricevere un rendimento commisurato al rischio stesso, se ci poniamo dalla parte di chi prende a prestito quei soldi, capiamo immediatamente come la fiducia che chi ce li presta ripone in noi sia determinante nel determinare quali saranno le condizioni applicate al prestito e anche quanti interessi dovremo pagare. Non è semplicemente una questione di avarizia, se una banca ci fornisce un prestito, essa ci sta effettivamente prestando i soldi di altri risparmiatori ed è quindi pienamente ragionevole che essa sia tenuta a valutare precedentemente il nostro merito creditizio, che è una stima della nostra capacità di ripagare il debito. Abbiamo già detto nell'episodio 5 che oltre alle banche esistono nel sistema finanziario altri intermediari creditizi, come ad esempio le società di credito al consumo, pensate ad esempio quando volete comprare uno smartphone a rate, o le società di leasing, se per esempio prendiamo in locazione un'automobile da un concessionario. Si possono quantificare gli interessi da pagare mediante il tasso anno effettivo globale, che contiene sia il tasso anno nominale che tutte le altre spese inerenti il finanziamento. Come dice il nome stesso, anche le carte di credito rappresentano una forma di prestito e generalmente si ripaga tale prestito alla chiusura del mese successivo. Tuttavia, se non saldiamo interamente il nostro debito, verranno applicati degli interessi alla quota non pagata. E fate attenzione perché a volte questi interessi possono anche essere molto maggiori rispetto a quelli applicati in altri tipi di finanziamento. Anche il fido bancario rappresenta un'apertura di credito, in cui però non necessariamente viene utilizzato tutto il credito messo a disposizione e di conseguenza gli interessi verranno calcolati soltanto sulla somma effettivamente utilizzata. Il tasso di interesse rappresenta sostanzialmente il costo del denaro e viene riconosciuto all'intermediario creditizio che eroga il prestito. Esso è direttamente influenzato, nell'Eurozona, dai tassi di interesse che vengono applicati dalla Banca Centrale Europea. Nell'episodio 3, infatti, avevamo detto che i tassi di interesse ai quali la Banca Centrale Europea presta soldi alle banche centrali degli stati membri rappresentano una delle leve di politica monetaria, con le quali la Banca Centrale Europea cerca di mantenere stabile il livello dei prezzi. Nell'ultimo anno, per cercare di mitigare il grande incremento dell'inflazione, la Banca Centrale Europea ha aumentato moltissimo i tassi di interesse ed è per questo motivo che negli ultimi tempi è diventato sempre più oneroso contrarre un debito. Il tasso di interesse che dobbiamo pagare quando contraiamo un debito può essere fissato alla stipula del contratto e rimanere lo stesso per tutta la durata della restituzione del debito, si parla quindi di tasso fisso, oppure possono essere legati all'andamento di un certo parametro di riferimento, e si parla quindi di tasso variabile. Nell'eurozona, questo parametro di riferimento che oscilla con il mercato è l'Euribor, Euro Interbank Offered Rate, e rappresenta sostanzialmente il tasso medio con cui le principali banche europee si scambiano il denaro tra loro. La scelta tra tasso fisso e tasso variabile dipende anche dalle nostre prospettive soggettive future di incremento, magari, del nostro reddito. Il fatto che il tasso variabile possa oscillare nel tempo fa sì che esso possa essere soggetto anche ad incrementi consistenti, quindi è più rischioso, perché potremmo ritrovarci a dover pagare una rata molto più alta. È per questo motivo che, prima di contrarre un debito, dobbiamo valutare attentamente la sostenibilità finanziaria di tale debito, per evitare di finire in una condizione di sovraindebitamento, una spirale in cui il troppo debito fa sì che non riusciremo a far fronte né alle spese correnti né alle spese necessarie per ripagare tale debito. La legge stabilisce poi quale sia il tasso di interesse massimo che può essere applicato, oltre il quale il prestito risulterebbe troppo costoso e si avrebbe usura. Esso è determinato a partire dal tasso effettivo globale medio, che è il valore medio dei tassi applicati dalle banche e dagli altri intermediari creditizi. La restituzione del debito avviene nella stragrande maggioranza dei casi mediante il pagamento di rate periodiche, che contengono sia una parte del capitale che deve essere restituito, sia una parte degli interessi che devono essere corrisposti. Si parla di piano di ammortamento per riferirsi al modo in cui queste rate sono costituite e alla programmazione delle scadenze entro le quali tali rate devono essere pagate. Non entro nel dettaglio, ma i principali tipi di piani di ammortamento sono quello alla francese, in cui la rate è costante, e di conseguenza la quota interessi, cioè gli interessi che vengono calcolati sul capitale ancora da restituire, sarà maggiore rispetto alla quota capitale, cioè la parte di capitale che deve essere restituita periodicamente. E il piano di ammortamento all'italiana, in cui è la quota capitale ad essere costante e siccome nel tempo man mano la quota interessi diminuirà, perché diminuirà il capitale su cui i tali interessi vengono calcolati, anche la rata totale sarà decrescente. Infine, per ricollegarci all'episodio 6, non solo famiglie e imprese si indebitano, ma anche lo Stato, proprio mediante l'erogazione dei titoli di Stato, che sono obbligazioni con le quali lo Stato prende a prestito dei soldi dai risparmiatori e si impegna poi a restituirli pagando un certo interesse. L'Italia, in particolare, avrà nel 2023 entrate complessive per circa 640 miliardi di euro, principalmente provenienti dai tributi, come abbiamo già visto, ma uscite complessive per circa 890 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di euro soltanto di interessi da ripagare sul debito contratto in precedenza, il debito pubblico, appunto. Pertanto si deve far fronte a questa spesa mediante emissione di altri titoli di Stato, che a loro volta andranno ad aumentare l'ammontare totale del debito pubblico. Ed è un'emissione che in questo periodo di tempo è particolarmente onerosa proprio per quel rialzo dei tassi di interesse di cui abbiamo parlato prima. Ad oggi, il debito pubblico italiano ammonta circa il 135% del prodotto interno lordo, il PIL, che è una misura, una indicazione della ricchezza della nazione. Ma di cui però parleremo meglio nel prossimo episodio, l'ultimo di questa serie dedicata all'educazione finanziaria. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo episodio 9 di questa serie. Grazie per avermi seguito. Condividete questo video con le vostre amiche, i vostri amici, i vostri conoscenti e, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo.